immagina solo per un attimo che tu domani mattina vai a lavorare al posto di esempio una donna che è entrata in maternità quel posto dove lei ha lavorato dove lei ha seduto si è seduta per esempio quella sedia quella scrivania quell'area di lavoro che le apparteneva ebbene secondo te e esprimiti qui sotto tra i commenti quell'area è libera dal suo campo energetico i suoi corpi sottili o gli eventi eventualmente stressanti se non addirittura le parti difficili della sua vita magari anche in famiglia e che lei pensava durante la giornata senza volere magari perché erano pensieri che entravano e uscivano beh secondo te quel posto è libero da tutto quello o entra eventualmente a far parte della tua vita per non parlare del parcheggio sotto casa compri casa nuova oltre a rimanere condizionata eventualmente perché questa è una domanda non è un'affermazione eventualmente condizionata dal starci in quella casa dove viveva un'altra persona oppure quel parcheggio sotto dove ha parcheggiato per anni e ora ci vai a parcheggiare tu secondo te tutto ciò che quella persona ha vissuto gli stati di stress eventuali entrano o non entrano a far parte della tua vita beh lascio a te la risposta e ovviamente a tutto questo segue un video di quelli che pubblico